buongiorno dalla redazione di firenze smart studio marco gargini iniziamo dalla 11 dove in direzione firenze si segnalano code a tratti tra pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra sesto fiorentino e peretola in a1 rallentamenti tra calenzano e il bivio con la variante di valico baccheraia verso bologna spostandoci sulla fipili in direzione firenze e code a tratti tra ginestra fiorentina e firenze scandici code in uscita scandici e in uscita santa croce sull'arno entrambe provenendo da firenze due chilometri di coda per lavori tramonto polivaldarno e pontedera ovest ponsacco in direzione mare infine per la viabilità cittadina firenze per i cantieri della tramvia sono iniziati i lavori di sistemazione urbana sul controviale di viale matteotti restringimento di carreggiata sulla direttrice verso piazza della libertà ed è tutto buon viaggio